Saranno dieci le borse di studio che caratterizzeranno la settima edizione dell'Executive Master in Digital Marketing, promosso dall'ente camerale Chieti Pescara in collaborazione con Udanet, spin-off tecnologico dell'Università degli Studi, Gabriele D'Annunzio. È un master che produce tecnici di qualità, professionisti disposti a dare un contributo importante alle aziende dove vanno a lavorare e il nostro dovere come ente camerale supportare tutte quelle iniziative che può migliorare la nostra produzione. Con docenti di fama internazionale ed un programma di 240 ore formative, il master organizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal PID Chieti Pescara ha l'obiettivo di fermare i digital manager figure professionali capaci di gestire e pianificare un piano di web marketing in tutti i suoi aspetti teorici ed operativi. A disposizione ci saranno 25 posti e le iscrizioni sono aperte fino al 15 gennaio. 240 ore di lezioni teorico-pratiche, passando dai big data ai social media marketing, SEO, advertising, Google, tutto quello di cui uno studente o un'azienda hanno bisogno per essere presenti in maniera adeguata sul mondo digitale. Possono partecipare soprattutto i volenterosi perché il digital marketing è una disciplina dove non si smette mai di apprendere, dove non si smette mai di doversi confrontare con nuove esigenze. L'anno scorso abbiamo avuto 34 partecipanti, ieri l'ultimo ragazzo del master è stato preso da una nota agenzia abruzzese.